Si parla di concessione degli alloggi del Ministero della Difesa, l'Udc presenta una mozione, che cosa chiedete in particolare? C'è un decreto del Ministero della Difesa che per gli alloggi per i militari stabilisce nuovi canoni, per questi qui noi chiediamo due cose, prima che siano applicati dal momento in cui viene notificato all'interessato e non come si dice retroattemamente dalla data del decreto. Per gli oltre 65 anni dare la possibilità di poter acquisire l'usufrutto perlomeno. Sostanzialmente ad oggi è vero che si tratta in molti casi di persone militari o ex andati in pensione che abitano come per dire sine titolo, però pagano regolarmente l'affitto. Questo costituisce un'entrata che il Ministero della Difesa può utilizzare per tenere in efficienza molti alloggi che invece sono abbandonati e invece potrebbero essere restaurati, messi a disposizione per le esigenze dei militari.